Siamo in collegamento dalla redazione di EastWest.eu, naturalmente vuota in questi giorni. Siamo collegati con Stefano Grazioli, il giornalista Stefano Grazioli, dalla Germania, in particolare da Bonn. Salve Stefano, noi siamo in un'Italia in grande emergenza, come tu sai, e vorremmo sapere in Germania com'è la situazione in questo momento rispetto all'epidemia del coronavirus. Sì, ciao Fabrizia, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, qua in Germania è un po' una situazione da quiete prima della tempesta, nel senso che per adesso la situazione è molto tranquilla, andando a guardare i numeri non c'è niente di cui preoccuparsi, o comunque c'è molto poco di cui preoccuparsi. I contagi sono più o meno 2.000, i morti sono solo 3, anzi forse oggi c'è stato il quarto, ma comunque si tratta di numeri molto contenuti, anche localmente, cioè a un centinaio di chilometri da qua, da Bonn, l'ex capitale, c'è stato il primo focolaio importante tedesco e tre morti provengono proprio da questa regione di Einsberg, dal comune di Einsberg. Per il resto la vita continua tutto sommato normalmente, ieri la cancelliera Merkel ha parlato di questo 60-70% dei tedeschi che saranno contagiati. Allora, è un falso allarme, nel senso che comunque sono dati che si sanno, che i virologi hanno già messo in circolazione. Il problema è specificare, dopo aver detto che sono il 50-60, così anche il 70% dei tedeschi che saranno contagiati, in quanto tempo avverrà questo contagio? Perché se appunto come avverrà in mesi o in un anno o in due anni, allora non c'è un problema. Cioè, si parla del 60-70% dei tedeschi, cioè di 50-60 milioni di persone contagiate, come verranno contagiati nel corso degli anni per una normale influenza. Il coronavirus non è ancora una normale influenza, però si andrà probabilmente in questa direzione. Adesso è ancora tutto tranquillo. Ma non sono stati ancora presi dei provvedimenti a livello di governo o di governi nei vari land? No, 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 i provvedimenti sono stati presi, e come? Il sistema tedesco è un sistema federale, quindi da Berlino si danno le direttive e poi vengono applicati, i provvedimenti vengono presi regione per regione, comune per comune. Ovviamente qua ad Heinsberg, vicino a Bonn, c'è stata una specie di quarantena, asili e scuole sono state chiuse, qua a Bonn solo un paio sono state chiuse. Oggi a Dalle, nella vecchia Germania Est, hanno deciso di chiudere tutte le istituzioni, scuole, asili e università, a partire da domani, perché c'è una dinamica molto veloce di diffusione di alcuni casi. La Baviera deciderà domani se seguire la stessa strada. Si sta cercando di capire come il virus si sta diffondendo in Germania, tentando ovviamente di controllarlo e di rallentare la sua diffusione, proprio per permettere anche al sistema salendario tedesco, che funziona ed è efficiente, però di affrontare quella che sarà l'emergenza, come c'è stata adesso in Italia, con più forza e con più efficacia. Ma c'è ancora la libertà di spostarsi da un land all'altro land? Cioè questi land chiusi, la gente può uscire e viaggiare in altre zone della Germania, liberamente? Sì, sì, non c'è nessun problema. I treni, gli autobus, in macchina ci si può spostare dappertutto. È chiaro che adesso c'è questa situazione di tranquillità. Se le cose peggioreranno probabilmente verranno presi anche provvedimenti che riguardano lo spostamento di persone. Però al momento non è una situazione di emergenza. La cosa potrebbe cambiare ovviamente molto rapidamente nei prossimi giorni. E qual è la percezione a livello delle persone comuni, nel quotidiano? Come si avverte? Sembra una cosa ancora lontana? Si sente come un problema lontano? Allora, negli ultimi due o tre giorni sta cambiando un po' la percezione. Fino all'inizio della settimana i tedeschi erano abbastanza tranquilli a Berlino, come a Bonn, al nord e al sud. Quando la situazione è peggiorata in Italia con i provvedimenti che sono stati presi dal governo italiano, prima le zone rosse di Lombardia, poi la chiusura praticamente di tutta l'Italia, il lockdown totale ieri sera, allora si è guardato anche verso la Germania con un'altra percezione. Perché probabilmente ci si aspetta che quello che è successo in Italia succederà anche qua. Resta si va al mercato, per ora non c'è nessun problema. Ci sono molti turisti meno in giro, questo sì, Bonn, ex capitale, è una città molto turistica, quest'anno si festeggia il 250esimo dell'anniversario dell'ascita di Beethoven. I turisti asiatici mancano, mancano anche quelli italiani, per esempio, perché i collegamenti con l'Italia in aereo sono praticamente quasi tutti bloccati, quindi le centinaia e migliaia di persone che venivano a Bonn o in tutta la Germania per altri motivi, in questo momento non ci sono, con riflessi anche ovviamente su quella che è l'economia. Quindi per il momento sono i settori del turismo e dei viaggi che iniziano a risentirne? Sì, gastronomia, turismo, questi settori qua sono quelli al momento più toccati, il governo sta preparando una serie di provvedimenti di sostegno all'economia e la borsa di Francoforte oggi ha perso il 10%, ma sono un paio di settimane che va a picco, i rimbalzi sono molto leggeri, sta iniziando un periodo molto difficile anche per l'economia e il governo di Angela Merkel anche Angela Merkel sta preparando le contromisure per quando arriverà la situazione peggiore. Senti, l'emergenza in Italia e nel resto dell'Europa che ora comincia a nascere, come viene percepita? Come viene sentita? Ma si guarda con molta preoccupazione verso l'Italia, proprio perché innanzitutto è un paese molto vicino che i tedeschi amano e hanno sempre amato. In secondo luogo si vede proprio come probabilmente la Germania sarà nelle prossime settimane, quindi la preoccupazione è tanta proprio perché si vede l'Italia adesso come un laboratorio, un modello e le cose che succedono da Milano a Roma potranno succedere da Berlino a Monaco nelle prossime settimane. Va bene, grazie Stefano, a presto e allora un saluto da East West e arrivederci con il nostro prossimo corrispondente del mondo. Arrivederci. Grazie mille.